Ciao a tutti amici sportivi, quest'oggi consueto appuntamento con la schedina dello sport Varesotto, ospiti del bar Pasticceria Siciliana di Gavirate. Brebbia, Berfortese, fiducia agli uomini di Patron Barbarito, 1. Juve, Gebonio, Maccagno, fiducia anche qui a Mr. Marsic, 1. Trevalli, Bugugiate, 1. Passiamo al calcio a 5. Amos, Sportiva, Vedanese, 2. Pavia, calcio a 5, Davino, calcio a 5, 1. Melgrate, Varese, 2. Passiamo a Hockey. Hockey, Varese, Pergine, 2. Ora abbiamo una partita di basket. Crema, Robur et Fideis, 1. Pallacanestro, Varese, Sassari, 2. E infine chiudiamo col volley. Volley Yamamai Busto contro Bozzano, 1 fisso a favore delle ragazze di Yamamai. Ciao a tutti, alla prossima settimana. Grazie. 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 Grazie.